Il primo febbraio del 2003, lo Space Shuttle Columbia stava rientrando nell'atmosfera terrestre dopo una missione di routine di due settimane, quando si disintegrò al rientro, uccidendo tutti e sette gli astronauti a bordo. Fu una tragedia terribile. E nonostante il Columbia fosse stato un veicolo affidabile per l'esplorazione spaziale fin dagli anni Ottanta, quell'incidente segnò di fatto la fine del programma shuttle della NASA. Oggi vedremo come lo Space Shuttle Columbia si disintegrò a una velocità pari a 18 volte quella del suono. Il 16 gennaio del 2003, il Columbia, il primo shuttle in assoluto a essere lanciato, partì per la sua ventottesima missione di routine. L'equipaggio di sette persone era composto da Rick Husband, comandante, Michael Anderson, comandante del carico utile, David Brown, specialista di missione, Calpana Ciaula, specialista di missione, Laurel Clark, specialista di missione, William McCool, pilota e Ilan Ramon, specialista del carico utile dell'Agenzia Spaziale Israeliana. Il Columbia era particolarmente adatto alla ricerca scientifica. Dalla sua prima missione, nel 1981, completò 28 voli nell'arco di 22 anni. Completò oltre 4000 orbite attorno alla Terra, trascorrendo in totale circa 300 giorni nello spazio. Dopo l'esplosione del Challenger, il Columbia era diventato lo shuttle di punta per il programma di ricerca della NASA, venendo utilizzato in 11 dei 15 voli dei laboratori Spacelab, nell'unico volo del doppio modulo di ricerca Spacelab e in tutte le missioni con carico utile in microgravità. Fu anche lo shuttle impiegato per il lancio dell'osservatorio Chandra, nel 1999. La missione di quell'equipaggio era condurre ricerche scientifiche 24 ore su 24 e ci riuscirono, completando circa 80 esperimenti nel corso dei 16 giorni trascorsi nello spazio. Dopo due settimane di esperimenti scientifici, il team iniziò il viaggio di rientro il primo febbraio del 2003. La navetta si lanciò verso la Terra da un'altitudine di 60.000 metri, viaggiando fino a 23 volte la velocità del suono, ma mentre si avvicinava al Kennedy Space Center divenne evidente che qualcosa non andava. Il centro di controllo ricevette letture anomale di temperatura e pressione dagli pneumatici dell'ala sinistra dello shuttle. Uno dei comunicatori di volo della NASA tentò di contattare l'equipaggio per discutere di queste anomalie. Il comandante dello shuttle, Rick Husband, ricevette il messaggio e rispose con la parola Roger. Il controllo missione non riuscì più a ristabilire il contatto con nessuno a bordo dello shuttle. È vero che, durante il rientro, le comunicazioni con gli shuttle possono occasionalmente interrompersi per brevi periodi, ma questa volta era diverso. Il velivolo scomparve completamente dai radar del controllo missione e scie di fumo bianco iniziarono a solcare il cielo, segnando l'inizio del disastro per il Columbia e per il suo equipaggio. C'è un vecchio detto che recita, il diavolo è nei dettagli. Perché, per quanto possa sembrare incredibile, la causa dell'incidente fu infine attribuita a un singolo, piccolo frammento di schiuma isolante. Come il mondo avrebbe poi scoperto, poco più di un minuto dopo il lancio iniziale dello shuttle, alcuni pezzi di schiuma si staccarono dalla rampa del bipiede che collegava un serbatoio di carburante esterno allo shuttle. Mentre il Columbia veniva lanciato verso l'alto a circa 875 km orari, quella schiuma colpì l'ala sinistra, danneggiando i pannelli in carbonio dello scudo termico lì installati. Da quel momento il destino dell'equipaggio era purtroppo già segnato. Lo shuttle e i suoi astronauti non subirono alcun effetto durante il volo spaziale, ma nel momento in cui il Columbia rientrò nell'atmosfera terrestre, l'ala danneggiata risultò priva della protezione necessaria contro l'intenso calore del rientro, che può raggiungere i 1600 gradi Celsius. L'ala cedette, causando la disintegrazione, l'incendio e infine la dispersione del resto dello shuttle. Il mondo non sarebbe venuto a conoscenza dei danni allo scudo termico fino a dopo la tragedia, ma il controllo missione, in realtà, lo sospettò quasi da subito. Il team a terra sapeva che durante il lancio si era staccata della schiuma, e sebbene si trattasse di un'opinione minoritaria, qualcuno temeva che una catastrofe potesse essere possibile. Sarebbero quindi stati necessari ulteriori sforzi per identificare con precisione posizione e gravità di eventuali danni. Tuttavia, alla fine, il team decise di non intraprendere quella strada. Temettero che, se avessero scoperto che il Columbia non era in grado di rientrare a causa dei danni subiti, sia loro che gli astronauti, si sarebbero trovati davanti a un insostenibile dilemma morale. L'equipaggio avrebbe dovuto rientrare sulla Terra e morire avvolto in una palla di fuoco durante il rientro? Oppure restare in orbita, consapevole che sarebbe morto lentamente una volta esaurite le scorte di ossigeno? Sul suo blog, l'ex responsabile del programma shuttle, Wayne Hale, ha rivelato che John Harpold, direttore delle operazioni di missione, gli disse In definitiva, Harpold riteneva che fosse meglio per l'equipaggio del Columbia vivere un volo sereno e di successo, e poi morire all'improvviso durante il rientro, piuttosto che venire informati del danno e dover attendere la fine, consapevoli che non c'era alcuna possibilità di salvezza, se non aspettare che l'aria si esaurisse. L'aspetto forse più tragico dell'intera vicenda è che, dopo il disastro, la commissione investigativa sull'incidente del Columbia stabilì che lo Space Shuttle Atlantis avrebbe potuto essere utilizzato per organizzare una missione di salvataggio, in grado, almeno in teoria, di salvare l'equipaggio del Columbia. Sarebbe stata un'operazione ad altissimo rischio, e ciò sarebbe stato possibile soltanto se il danno fosse stato individuato nei primissimi giorni della missione e se i preparativi per un lancio di emergenza fossero iniziati immediatamente. Non sapremo mai se una missione di salvataggio avrebbe avuto successo, ma sappiamo che la strada scelta all'epoca non solo costò la vita agli astronauti del Columbia, ma portò anche, nel tempo, alla fine dell'intero programma Shuttle della NASA. Non era la prima volta che la schiuma si staccava durante un volo spaziale. In realtà, era già successo diverse volte in passato. Anzi, accadeva così frequentemente che all'interno della NASA si cominciò a parlare comunemente di distacco di schiuma. Tuttavia, poiché fino a quel momento non aveva mai causato incidenti gravi o preoccupanti, la maggior parte degli ingegneri della NASA considerava il fenomeno come un problema minore, non particolarmente urgente. Detto ciò, almeno un responsabile tecnico della NASA, Don L. McCormick Jr., espresse le sue preoccupazioni a Linda Hamm, membro del team di gestione della missione. Ciononostante, lei rispose che non era un problema rilevante per quella missione. Dopo il terribile incidente, il campo di detriti del Columbia si estendeva dal centro del Texas fino all'ovest della Louisiana. Un team composto da oltre 25.000 professionisti e volontari esplorò un'area di circa 930.000 ettari per recuperare ciò che restava dello shuttle. Tuttavia, vista l'ampiezza dell'area e l'elevato numero di frammenti, ancora oggi ne vengono trovati occasionalmente. Nel 2017, a ben 14 anni dalla tragedia, erano stati recuperati circa 84.000 frammenti del Columbia, ovvero solo il 40%, ed erano ancora oggetto di studio. Dopo l'esplosione del Challenger, nel 1986, che costò la vita a sette astronauti, la NASA si era ripromessa di non ripetere gli stessi errori, ma alla fine non riuscì a mantenere quella promessa. Negli anni 90, il budget dell'agenzia venne dimezzato e i tagli ai finanziamenti continuarono anche negli anni successivi. All'epoca dell'amministrazione Bush, la NASA operava con un budget limitato, ma nonostante questo le veniva richiesto di portare avanti missioni regolari per restare al passo con i lavori sulla Stazione Spaziale Internazionale. L'organizzazione, però, era spesso riluttante a prendersi il tempo necessario per affrontare e risolvere i problemi. Mentre il Congresso e la NASA si rimpallavano le responsabilità, subito dopo l'incidente iniziarono a cadere teste all'interno dell'organizzazione. Alcuni dirigenti furono rimossi dal proprio incarico e Wayne Hale fu messo al comando delle restanti missioni shuttle. Fu l'unico membro della NASA a scusarsi pubblicamente per l'accaduto e ad assumersi la responsabilità della cosiddetta normalizzazione dell'anomalia. In seguito disse, dopo l'incidente, mentre stavamo ricostituendo il team di gestione della missione, dissi chiaramente, non diremo mai più che non c'è nulla che possiamo fare. I cambiamenti arrivarono proprio sotto la sua guida, quando assunse la direzione dopo il disastro del Columbia. Fu lui a scardinare quell'atteggiamento superficiale e autoindulgente che si era insinuato nella cultura interna dell'organizzazione nel corso degli anni. La prima cosa da fare è mettere da parte l'arroganza, dichiarò in un'intervista. Qualsiasi segnalazione gli venisse presentata la prendeva seriamente in considerazione. Vennero aggiornate checklist, protocolli e norme di sicurezza e tutte le missioni shuttle successive si conclusero con successo prima che la flotta venisse definitivamente ritirata nel 2011. Anche se il livello di sicurezza della NASA migliorò notevolmente dopo il disastro, la flotta shuttle era ormai tecnologicamente superata. Il Columbia era stato il primo a volare, nel 1981 e la tecnologia dell'intera linea era ormai obsoleta. Dopo il disastro del Columbia, la commissione investigativa concluse che gli shuttle rimanenti avrebbero dovuto essere sostituiti il prima possibile. I quattro veicoli superstiti vennero progressivamente ritirati e collocati in musei sparsi tra New York, la California, la Florida e la Virginia. Con la flotta ormai fuori servizio, la NASA fu costretta a cercare supporto esterno. Ed è qui che entrò in scena Elon Musk con la sua SpaceX. Se sarà la strada giusta, lo dirà il tempo, ma oggi la privatizzazione dell'accesso allo spazio sembra essere diventata la nuova frontiera. E questa è la fine della storia del Columbia. Una storia fatta di ambizione, errori, responsabilità e di una tecnologia che, nel momento più critico, si è rivelata inadatta a proteggere coloro che vi avevano riposto la propria vita. Se questo racconto ti ha colpito, iscriviti al canale. Qui approfondiamo storie vere, tragedie spesso dimenticate e vicende che meritano di essere raccontate, dal mare alle montagne, dallo sport alla cronaca. Ogni settimana nuovi episodi per riflettere, ricordare e capire.